Il prossimo partecipante del nostro dialogo è un caro amico dell'agenzia TASS, il caporedattore dell'agenzia di stampa cinese, Hinghua, Liu Yang-kun. Il signor Liu parla benissimo in russo e sappiamo che ama cantare canzoni russe e ama molto il cinema sovietico. Ni hao, signor Liu, a lei la parola. Onorevole signor Presidente, ha recentemente effettuato una visita di Stato in Città. In Cina avete relazioni abbastanza strette, si può dire un esempio. Un esempio di relazioni tra grandi potenze. Come valuta la nostra cooperazione, la vostra cooperazione con la Cina? Come valuta l'influenza che la cooperazione ha sulle regioni? Grazie. Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, vorrei sottolineare che esse non sono di natura situazionale. Sono basate su interessi reciproci profondi. Infatti, la Cina è il nostro principale partner commerciale ed economico da 15 anni. Cioè, abbiamo iniziato a costruire il nostro rapporto e l'abbiamo portato al livello attuale non a causa di eventi politici congiunturali del giorno. E molto prima di allora, basandoci su interessi reciproci, abbiamo agito con molta cautela. Tranquillamente e gradualmente. E devo dire che praticamente ci sta riuscendo tutto. Al momento il giro d'affari ha superato le aspettative, raggiungendo 240 miliardi di dollari secondo la Cina. Secondo le nostre è un po' meno, circa 230. La questione non è nemmeno nel volume degli scambi, ma nel fatto che li stiamo diversificando con abbastanza successo. Non riguarda solo gli idrocarburi. Non solo energia, ma forniamo anche petrolio, gas, carbone ed elettricità alla Cina. Costruiamo centrali nucleari nell'ARPC. E tutto questo sta accadendo con abbastanza successo. Ma abbiamo anche nel settore delle alte tecnologie buona prospettiva. Intendo costruzione di aeromobili, intendo intelligenza artificiale. Siamo molto felici per la Cina, per i successi che dimostra la Repubblica Popolare Cinese in moltissimi settori, compreso lo spazio. Questi sono risultati davvero unici. E il Partito Comunista Cinese è la forza politica dominante in Cina. Certo, tutto ciò che si fa avviene sotto la guida del PCC. Sapete su cosa vorrei attirare la vostra attenzione? Non ricordo, l'ho detto prima, non lo so, in una simile compagnia sarà interessante o no. Alcuni dei nostri esperti, bravi economisti, persone abbastanza giovani, ma molto esperti, dicono questo. Dicono che l'analisi di ciò che sta accadendo nell'economia cinese, l'analisi di ciò che sta accadendo nelle economie di altri paesi del mondo, comprese le principali economie, compresi gli Stati Uniti, mostra che i cinesi sono comunque riusciti a creare un modello di sviluppo economico molto peculiare, ma estremamente efficace, più efficace di quello negli stessi Stati Uniti. E a giudicare dai risultati dell'economia cinese, economica. Sembra proprio che sia così. Sì, si può molto discutere, lamentarsi della leadership cinese, come fanno alcuni dei nostri colleghi occidentali, dire che qualcosa lì non è di mercato, dire che non stabiliscono le rotte con decisioni del Politburo e così via. Beh, si può dire di tutto, ma il risultato è noto a tutti. E il risultato è che lui dice che un tale modello è più efficiente. E chi può incolpare la Cina per questo? Che sia di mercato o no, sono un miliardo e mezzo di persone. La leadership cinese deve pensare a ognuno di loro. E allora? Non tutti questi, un miliardo e mezzo di persone, vivono come l'europeo o l'americano medio. Quindi la leadership cinese ha il diritto di usare tali metodi di gestione economica per soddisfare le esigenze essenziali della sua gente, dei suoi cittadini, cosa che la leadership cinese fa sotto la guida della Cina. Con il leader, il presidente dell'RPC e un mio buon amico, come diciamo sempre da entrambe le parti, che loro stanno facendo. E lo fanno, tra l'altro, in modo molto corretto e molto affidabile. Beh, si può solo essere contenti. Sappiamo tutto ciò che accade nelle economie delle principali nazioni del mondo, inclusa quella cinese. Ma in generale è molto affidabile e sta diventando sempre più avanzata tecnologicamente. Mi sembra che sia un grande errore da parte degli Stati Uniti o da parte di alcuni paesi europei voler o cercare di frenare in qualche modo l'economia cinese. Perché, a mio avviso, per essere di successo bisognava inserirsi in questi processi e non cercare di ostacolarli. Perché, beh, pare che persone intelligenti ne parlino. In Cina c'è una sovrapproduzione di automobili, compresa una sovrapproduzione di auto elettriche. Chi lo dice? Lo dicono quelli che si considerano fautori del libero mercato. Non capiscono, non lo sanno? Chi determina se c'è sovrapproduzione o no? Lo determina il mercato. Se la Cina produce una certa quantità di automobili e il mercato le assorbe tutte, di quale sovrapproduzione stiamo parlando? È una sciocchezza, davvero? Si può chiamare sovrapproduzione? No, si chiama in un altro modo. Si chiama tentativo di limitare la crescita, non con mezzi di mercato. E questo è dannoso. Anche, in questo caso, per l'economia americana. E perché? Perché non prenderanno dalla Cina questo tipo di prodotto. Tale, tale. Quindi, a cosa porterà questo? Faranno qualcos'altro? O faranno qualcosa da soli? O lo compreranno da qualche altra parte? E questo è più costoso? E questo significa che l'inflazione crescerà negli stessi stati. E l'inflazione influenzerà negativamente tutta la struttura economica del paese che lo fa. Ed è dannoso, in questo caso, per la stessa economia americana. È un errore. Un altro errore dell'amministrazione attuale. E per quanto riguarda Sina, se sottolabile e molto, molto professionale guida della Cina, si sta sviluppando ai ritmi necessari per la Cina, per quanto riguarda altri settori. Io parlo sempre di questo, e qui posso solo ripeterlo, che la nostra collaborazione sul palcoscenico internazionale è un fattore di moderazione e un elemento di stabilità. Ma, sapete, oltre all'economia, questioni di sicurezza reciproca? Ma noi, come sapete, conduciamo esercitazioni e continueremo a farlo, continueremo anche in futuro, comprese esercitazioni militari, ma stiamo lavorando nel campo della cooperazione tecnico-militare. Qui abbiamo qualcosa da offrire agli amici cinesi. E i nostri amici cinesi sono interessati a collaborare con noi in questa direzione. Ma la nostra interazione non si limita all'economia né alla cooperazione tecnico-militare né alla cooperazione sulla scena internazionale. Quest'anno abbiamo annunciato anni reciproci di cultura. Quello di cui ha parlato qui il nostro ospite, che conoscete canzoni russe e parlate anche russo. Questo, secondo me, potrebbe essere almeno non meno importante di tutto il resto di cui ho parlato. Perché questo crea una base di relazioni tra i popoli. Crea un ambiente favorevole per lo sviluppo delle relazioni in tutte le altre direzioni. Questo è ciò che seguiremo da entrambe le parti. E spero che nel prossimo futuro riuscirò anche a incontrarmi e discutere tutte queste questioni con il presidente dell'RPC nelle sedi che ho già menzionato sia la SCO sia i BRICS. Vladimir Vladimirovich, sapete ho fatto un'intervista dettagliata con voi tre volte. Naturalmente, ormai è passato molto tempo. La prima volta è stata nel 2002. Quei tre interviste sono state fatte a Mosca o a Pechino. E questa volta la quarta intervista nella vostra città natale. Ne sono molto felice e vi ringrazio e auguro ogni bene. Grazie.